E dunque ci colleghiamo con Pietro Cali di Copernico Sim, buongiorno innanzitutto. Grazie, buongiorno a voi. Grazie per essere qui con noi. E dunque la reazione sul mercato italiano c'è stata, non pesante. Parliamo ovviamente della reazione al giudizio di Standard & Poor's che venerdì a mercati chiusi ha bocciato il rating del nostro paese. Triple AB meno, il più basso dell'introduzione dell'euro e il più basso anche tra le tre più grandi agenzie di rating, ovvero Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Meno 0,75% il Futsi Mib, lo spread a 125 punti base, rendimento del decenale 2,04%. Pare Cali che stia vincendo l'effetto Draghi sull'effetto Standard & Poor's. Sì, appunto venerdì è stata una doccia gelata questa di Standard & Poor's. Come lei ha accennato poco fa, l'effetto Draghi di giovedì pare stia vincendo sui mercati questa mattina. Non dimentichiamoci che oggi è giornata di festività, appunto le borse sono aperte, i volumi credo che rimarranno bassi tutta la giornata. E in questo senso Standard & Poor's ha tagliato nuovamente le stime, era da luglio 2013 che non le tagliava. La situazione italiana non è sicuramente ottimale. Non dimentichiamoci che un declassamento ulteriore potrebbe anche causare un disinteressamento da parte dei grossi fondi. Cioè, mi spiego meglio, i grossi fondi comuni, i grossi fondi hedge, hanno dei paletti quando investono magari in un paese o in delle obbligazioni governative, non so, italiane. E quindi in questo senso un possibile declassamento a junk bond potrebbe far uscire davvero un deflusso di capitale nel nostro paese. Questa mattina comunque non mi aspetto grossi exploit da parte della borsa italiana, anche a causa dei volumi. Sicuramente le notizie su tutti i fronti non sono positive. E le banche stanno reagendo male in realtà. Peggio del listino, fanno i credit in Tesa San Paolo e soprattutto le popolari. Popolare Emilia Romagna, Popolare di Milano, Banco Popolare, come mai? Il settore bancario è strettamente legato agli spread, gli spread sono saliti, stanno salendo questa mattina a causa del rischio Italia, appunto. Quindi diciamo che una volta che l'Italia viene vista male dagli investitori globali, il primo settore, i primi titoli a pagare sono sicuramente i settori bancari. Le banche popolari secondo me stanno scontando un po' le mancate operazioni di finanza straordinarie che forse il mercato ci si aspettava. Da questo punto di vista comunque io reputo i bancari ancora a prezzi sottovalutati rispetto agli altri settori del Fuzzimib. Quindi piuttosto dal punto di vista obbligazionario più che dal punto di vista azionario comunque non reputo il settore bancario un settore cattivo per gli investimenti, per i possibili investitori. Quindi con ancora spazi di crescita che riguardano, questi spazi di crescita riguardano le popolari oppure anche le grandi banche? Innanzitutto le grandi banche perché come ho già detto qualche settimana fa mi piace molto Unicredit, soprattutto ad esempio questa mattina è partita abbastanza male e potrebbe essere un'occasione buona per comprare. Però innanzitutto partirei dalle grosse banche, ripeto dal punto di vista obbligazionario soprattutto perché dal punto di vista dell'immagine di questi titoli verso il mercato, appunto il mercato secondo me potrebbe scontare una cattiva visione di questo settore. E proprio per questo è un motivo per andare long sui titoli. Da questo punto di vista credo che il settore obbligazionario biancario sia favorito rispetto a quello azionario che potrebbe subire eventuali variazioni, un'elevata volatilità appunto se vedremo ancora lo spread salire come ha fatto questa mattina. Parliamo anche delle parole che la Merkel ha pronunciato su Italia e Francia, la vigilia dell'Eurogruppo che tra l'altro sta per cominciare, sono già arrivati il presidente della BCE Mario Draghi e il presidente Gisselblom, parole che insomma hanno fatto male con una replica anche irritata, ufficiosa da parte di Palazzo Chigi. Ma ha ragione la Merkel oppure no? Da un certo punto di vista purtroppo a mio parere sì, nel senso che la Merkel appunto ha dichiarato che l'Italia e la Francia non hanno fatto abbastanza e i numeri purtroppo le danno ragione. Certo che la politica di fiscal compact di qualche mese fa in una situazione critica come quella attuale a livello europeo, a livello di consumo e di crescita, di certo non favorisce una situazione italiana. Io ovviamente non credo sia colpa di Renzi o di Hollande in Francia, nel senso che la situazione politica in Italia è in crisi da molti anni. La Merkel ha ragione dal punto di vista dei numeri, certo è che una politica troppo restrittiva dei falchi tedeschi non aiuta la situazione italiana. E se l'Italia o la Francia non si riprendono anche la Germania pagherà il conto. Parliamo anche del cambio euro-dollaro a quota 1,22,7. Questa mattina è calì un cambio che si sta indebolendo sempre di più, anche questo possiamo dire effetto Draghi, ma che favorisce che tipologia di azioni a piazza affari? Sicuramente favorisce le esportazioni di tutto il settore industriale italiano. Io credo che l'euro-dollaro sia un trend discendente, è un po' che ci troviamo verso la soglia 1,23, 1,23 e mezzo. Io credo che l'euro-dollaro potrebbe toccare, una volta superato 1,20 potrebbe arrivare anche a 1,18, cioè i livelli di quotazione dell'euro-dollaro. Sicuramente favorisce il settore industriale italiano. Secondo me precedentemente esiste il problema dei consumi interni, quindi io non credo che l'euro-dollaro possa favorire così tanto le politiche e l'economia europea, soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Prima bisogna risolvere i problemi interni, poi le esportazioni potranno aumentare i risultati delle aziende. L'euro-dollaro comunque, come ho detto, vedo ancora discesa, vedo ancora apprezzamento del dollaro, anche causato dal depreciamento del petrolio, perché sappiamo che c'è una correlazione inversa molto forte fra prezzo del dollaro e prezzo del petrolio. Tra l'altro prezzo del petrolio che potrebbe anche favorire i consumi interni, a maggior ragione. Io comunque aspetto le riforme politiche prima di dire che l'euro-dollaro potrebbe favorire e risolvere i problemi europei. E poi l'azionario americano, che è anche supportato dai dati macroeconomici, che sicuramente sono migliori di quelli che vediamo in Europa, continua a macinare nuovi record. Ma quanto è sostenibile questa corsa di Wall Street? Secondo me è ancora sostenibile per un periodo di tempo. A me spaventa comunque Wall Street ai massimi. Tutte le borse ai massimi spaventano i rischi bolla e esistono, anche se io vedo più un rischio bolla dal punto di vista obbligazionario che azionario. Io credo che comunque i dati, che sono la cosa più importante, i dati economici di quel paese, degli Stati Uniti, sono comunque importanti e le fondamenta sono solide. Quindi da un certo punto di vista mi spaventa più un'Europa a prezzi più bassi e più volatile, piuttosto che ai Stati Uniti, ai livelli a prezzi elevati, ma che comunque mi danno un certo grado di sicurezza e mi confermano che l'economia è più allineata ai mercati finanziari. Quindi io credo che comunque il rally potrà continuare, almeno fino a fine anno, perché comunque dicembre è un mese che non ha grossi scossoni. In genere i vertici aziendali cercano di non dare grossi scossoni, visto che si arriva alla sottoscrizione dei bilanci. Comunque io il mercato azionario americano lo vedo ancora molto bene, anche grazie al petrolio. Gli Stati Uniti sono il paese che stanno vincendo la guerra del petrolio in questa fase. L'Europa è sottovalutata? Da un certo punto di vista sì, il settore bancario, ad esempio italiano, è molto sottovalutato rispetto ai suoi dati fondamentali. Quindi è sottovalutato ma è molto più volatere rispetto agli Stati Uniti che invece hanno basi più solide. Una domanda che riguarda una cosa che ha detto prima, la spaventa di più, il rischio bolla sull'obbligazionario che non sull'azionario. Che cosa significa? Ce lo puoi spiegare meglio? Significa che i prezzi obbligazionari anche loro sono ai massimi, essendo i rendimenti così schiacciati. E un possibile scossone sul mercato obbligazionario, un possibile calo dei prezzi obbligazionari sarebbe molto più difficile da recuperare rispetto a un calo azionario. Appunto perché è un mercato meno volatile. Ecco, siamo in una situazione davvero particolare. Veniamo fuori da un trend trentennale di tassi a ribasso e il rialzo dei tassi di interesse, se non è ben gestito, può spaventare davvero i mercati. Dove si trova il rendimento? America e poi? Al punto di vista azionario America, ovviamente io rimango pro paesi emergenti, paesi asiatici, mi piace la Cina ad esempio in un momento in cui non è ben valutata, non è ben vista dal mercato azionario. E i rendimenti invece sull'obbligazionario sono ancora, è rimasto qualcosa in qualche yield e perché no anche nell'obbligazionario di bancari italiani. Lì esiste ancora del valore. E poi una domanda anche sulla Giappone. Anche oggi abbiamo visto dati macroeconomici negativi con il PIL dal terzo trimestre che è stato rivisto nuovamente a ribasso. Però nonostante questo l'indice Nikkei continua a fare molto molto bene, si trova ai massimi del 2007. Come mai questa discresia? Il motivo per cui gli azionari giapponesi va molto bene è proprio perché l'enorme quantità di moneta deve essere allocata. Cioè i grossi istituti bancari hanno questa grossa quantità di moneta a prezzi facili, perché sappiamo la politica espansiva della banca centrale giapponese. E questa grossa quantità deve essere allocata. Dove va allocata? Probabilmente nel mercato azionario. Questo provoca una domanda dei prezzi azionari e quindi automaticamente e ingiustificatamente possiamo dire i prezzi azionari salgono. E' un po' quello che è successo al contrario nei paesi emergenti. L'anno scorso la Federal Reserve ha ritirato moneta del mercato, ha fatto il famoso tapering, quindi ha ridotto la quantità di moneta immessa sul mercato. C'è stato un deflusso dei paesi emergenti. Questo perché? Perché questa grossa moneta non è stata più implementata e quindi c'è stato un calo della domanda di prezzi azionari. E in quel senso i mercati azionari asiatici erano scesi automaticamente. Kelly, una domanda anche su Saipem. Mercoledì ci sarà un consiglio di amministrazione di fine anno con il budget 2015 all'ordine del giorno. Un budget 2015 che chiaramente deve tener conto dello stop al gasdotto South Stream che è stato di fatto imposto unilateralmente da parte della Russia, anche se le cose non andavano bene già da qualche tempo. Come sarà il 2015 di Saipem? Ma che viene già da anni difficili, anni complicati. Sì, per gli investitori Saipem ai prezzi attuali, ai livelli attuali, secondo me è una scommessa. Cioè investire in Saipem oggi per il 2015 sarebbe una scommessa e non sarebbe un investimento. Saipem è un titolo che va alla ricerca di nuovi giacimenti anche come core business. E in questo senso quei titoli sono quelli che saranno maggiormente colpiti. Oltretutto in questo weekend abbiamo sentito che è confermata la cancellazione di quell'ordine su Shale Stream. E quindi questo è sicuramente un danno per il titolo. Io rimarrei fuori da un titolo così volatile perché non è un investimento, è semplicemente una scommessa. E come sappiamo nessuno ha la sfera di cristallo. Un titolo come Saipem potrebbe andare benissimo, ad esempio con una risredita di prezzi del petrolio, però in questa fase io ne rimarrei fuori. Una situazione, quella di Saipem, che complica la vendita della stessa Saipem da parte di Eni. È così, un Eni che forse poteva venderla a certe quotazioni, adesso forse deve rivedere queste attese. È corretto questo ragionamento oppure no? Assolutamente sì, Eni detiene oltre il 40% di Saipem. È un calo di questi prezzi, ha fatto sì che il valore intrinseco appunto della partecipazione si è ridotto di molto. Anche in questo caso Eni ha in pancia una scommessa molto forte, quindi non è detto che non liquidi Saipem, magari potrà farlo dilazionata nel tempo, cioè potrà uscire gradualmente nel titolo. Perché comunque avere quel tipo di quantità di azioni in pancia è sicuramente un rischio, che può essere riversato anche sugli stessi azionisti di Eni, una volta che Saipem verrà nel caso venduta. E poi il titolo Fiat Chrysler, che ha aperto in territorio negativo, meno 0,9%, un titolo che però è riduce ad una corsa veramente importante sul listino. Tra l'altro la settimana scorsa è partito il roadshow di Sergio Marchionne per il collocamento di 87 milioni di azioni del convertendo da 2 miliardi e mezzo di dollari. Che cosa significano queste operazioni per Fiat Chrysler? Le chiedo anche se ritiene sostenibile questa corsa che abbiamo visto del titolo nelle ultime sedute. Secondo me è corso talmente tanto il titolo che io inizierei a uscire, se ho fatto buoni rendimenti, intorno al 7-8%. Più che altro perché a me non piace molto quando un titolo inizia a salire o sale per un certo periodo di tempo a causa di operazioni di finanza straordinarie o come sta accadendo in Fiat. Mi sembra che le notizie che muovano il titolo non siano tanto riferite ai dati di bilancio, ai dati operativi del core business dell'azienda, quindi alla produzione di automobili e alla vendita. Ma più che altro per quanto riguarda gli scorpori, gli incorpori, le varie operazioni o le quotazioni a Wall Street. Questo mi spaventa dal punto di vista fondamentale e quindi io in questo caso non credo che sia ancora molto sostenibile questa crescita di FCA. Io ringrazio molto Pietro Callico per Nicosimo e per essere stato qui con noi a Caffè Affari. Grazie, buona giornata. Grazie.